Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di tante avventure, challenge! Allora, Touch My Body Challenge, voglio farlo con loro da un millennio. Finalmente siamo qui, questa è una specie di benda. Adesso Mario si benderà, benderemo Mario, che non dovrà vedere niente. E Gabriella con un dito, con il dito di Mario, dovrà trascinare il suo corpo tipo mouse e lui dovrà indovinare che parte del corpo sia. Spero che la mia fidanzata mi faccia toccare bene le parti del corpo. Ovviamente, benvenuti. Intendevo, vi tedevo il viso, cosa stavate pensando. Via Mario, io sono una brava, una brava persona. Ok, vedi qualcosa? Allora, quando sono queste Mario? 76. Vabbè, non ci vedo. Via Gabriella. Vediamo se riesce a indominare. Se arriva a due punti ciascuno, se riesci a indominare. 3, 2, 1, via. La bocca. Bravo, un punto! Un'altra cosa, vai a Gabriella. Questo è il mio minocchio, questo è il tuo braccio. La tua gamba! Ok Mario, leva la benda, adesso tocca a Gabriella. E fa incontrare, Mario deve... Ok, quanto sono queste? 50. Perfetto, via. Allora, prendi il suo dito. Non si fa, no? Ma che fai? Che c'è dal lingua nazionale francese? In un punto, mi dò, mi dò dentro. Ah, punto. Cos'è? Cos'è, cos'è? Cos'è? Il braccio. Il braccio, giusto. Ah, un punto Gabriella. L'altro. Oh, eh. a che faccio il giro del gomino a 30 giorni con sto dito questa è cos'è è bella, è la ruvida, mi sembra che è la tua faccia si è abbassata guarda un altro tentativo, pensaci, pensaci il tuo braccio no più giù la gamba bravo Gabby la mia cara l'ha fatta la ragazza ok adesso mi vendo io o Gabby o Mario, non so chi sarà faccio io? si, ok il dito della Yolanda ok, aiuto è il ginocchio bravo cos'è sta oddio, che è un altro dito non ci sei quasi un po' più su del dito una mano non riesco a capire, c'è un unghio e quindi l'unghio brava adesso facciamo la più difficile adesso ok, vai Mario ok pelli capello si, quindi orecchio testa non riesco a capire, ci sono i capelli scusa, la tua testa siamo lì il collo quale parte del collo? di dietro quindi eh, come si chiama? collo da gay come si chiama? la nuca la nuca la nuca ok ok, ultimo a loro adesso mi vendo io aspetta un attimo bello cieca ok 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 non lo ha a capire, ciò qua questo è il tuo banchino è il tuo banchino adesso metti gioco la penda è il tuo petto è il mio petto il suo petto va bene ragazzi questa puntata finisce qui di touch my body challenge scrivetevi qui sotto se ovviamente non l'avete fatto e commentate e lasciate like se non ci siamo simbatici e non fate mai niente siamo gentili amare tanto e non fate niente che noi non faremo un bacione del suo wow bye bye